siamo con clementino qui al film festival di roma 2015 prima giornata è uno dei rapper più importanti d'italia insieme ad altri rapper stai presentando un vostro film se ne puoi parlare presentiamo un documentario che si chiama scritto opera già dal titolo parla dalla strada all'opera la strada al fatto un pochino la chiave di quello che è invitiamo tutti a vedere questo documentario